A 14 anni di distanza e non lontano, temporalmente all'interno di un anno da quel match, San Giovannese-Ravenna tornano ad affinare le armi sportive al Benelli. L'ultima occasione infatti del medesimo incontro rimanda al 2004, quando con Sarri in panchina gli azzurri vinsero per 1-0, rete di Morelli a pochi minuti dalla fine, di fatto estromettendo proprio i romagnoli dalla corsa a play-off. Non c'è bisogno di aggiungere che gli stati d'animo adesso sono più che opposti, con i padroni di casa prossimi al sold-out dello stadio per la festa del ritorno del professionismo e gli azzurri alla ricerca dell'ultimo punto per la matematica disputa dei play-out. L'ultimo allenamento della settimana, visto la riproposizione del medesimo undici che ha sconfitto il Poggi Bonzi in casa, le scelte dunque dovrebbero vertere su Piantini e Mariani come esterni bassi, anche perché Cappelletti è indisponibile al pari di Vinasi e Colato preferito a Bucaletti come vertice offensivo con possibile staffetta in corso d'opera. L'arbitro è Alessandro Di Graci della sezione di Colomo, a lui per la Sangio è legato ricordo della vittoria in campionato nel girone di andata in casa contro la Virtus Castelfranco. Intanto servirà appunto muovere la classifica, poi al novantesimo si conoscerà dunque l'eventuale nome dell'avversario per lo spareggio.